Noi ci auspichiamo che comunque questo non sia un clima di polemica, un clima di festa, visto che abbiamo vinto, siamo in finale e questo è l'importante. La Giuliano Women vince il match contro l'ASD Pegaso e si qualifica per la finale di Coppa Italia. Il Pegaso è stata una squadra veramente ostica che ci ha veramente ingabbiato. Le ragazze che avrebbero dovuto giocare in casa allo stadio De Cristofaro si sono sfidate con le avversarie a Lusciano in un cambio di struttura all'ultimo momento. Con una nota la società sportiva Giuliano Calcio chiarisce le motivazioni del diniego all'utilizzo dell'impianto di Casacelle. La partita si sarebbe dovuta giocare al De Cristofaro anche come il sindaco al quale va il nostro ringraziamento si era impegnato attraverso un decreto sindacale di concederci il patrocinio morale e l'utilizzo dello stadio in maniera gratuita. A seguito di questo nonostante c'era stata anche un'interlocuzione precedente con il consigliere delegato allo sport, il consigliere Cacciacuoti, Poi ci è stato mandato un preventivo abbastanza oneroso di 1130 euro che rifà un po' i canoni di quelle che sono le delibere di giunta, però forse molto maggiorate rispetto a quelle previste perché comunque i 250 che ci chiedevano erano dei canoni che secondo me non erano leciti di chiedere visto che è considerato che c'è il personale già incluso nella delibera di giunta. Al netto di questo il sindaco con grande impegno insieme alla sua squadra ha cercato di concederci lo stadio, però purtroppo vuoi per le tempistiche, vuoi per altro, il Giuliano ha detto che non era impossibilitato fare questa concessione all'ente proprietario perché non aveva rispettato i termini della convenzione. Non ha detto di no a noi, ha detto di no comunque al sindaco e alla città di Giuliano.